Tra pochissimo, a Benvenuti a Tavola, un unico entusiasmante episodio che parlerà di Aurora Boreale. Tra pochissimo. Mi comprendi, tu non mi comprendi. Ho bisogno di nuovo di frequentarti per comprenderti. Ho capito. Buona visione da Denti bianchi? Bianchissimi! Pensa, lo sbiancamento con visita, radiografie, trattamento con rivoluzionario sistema sbiancante, innocuo e indolore, tutto a 99 euro. È un'esclusiva clinica Favero, a Belluno, via Vittorio Veneto, Centro Millennio. Assicuratrice Valpiave. Bene comune. De Pian Salotti. Fabrica divani, poltrone, divaniletto e poltrone relax. De Pian Salotti. Produzione e vendita diretta a foin di feltre. I divani De Pian. Veri gioielli che durano nel tempo. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Benvenuti a Tavola. Buongiorno Joy. Buongiorno. Ricordiamo Ristorantino La Joy alla Zen, nella Ridente. Contea. Dove, tra i tanti piatti, cosa si prepara? Cioè, nel senso, che prepari lassù e che prepari qui oggi? Oggi facciamo un antipastino, dei piccoli fagottini di pasta sfoglia con dentro il radicchio di Santa Giustina e lo schizzo. Ingredienti. Un cespo di radicchio di Santa Giustina, pasta sfoglia, una cipolla, un uovo, lo schizzo del latte busche, il formaggio grana, sale e pepe. Prima di tutto, laviamo il radicchio e lo tagliamo sminuzzandolo. In una padella mettiamo l'olio e non appena sarà caldo, aggiungiamo la cipolla. Facciamo un po' abrasare, aggiungiamo il radicchio, mescoliamo, copriamo e lasciamo cuocere per 10 minuti. Facciamo ben asciugare. Una volta freddo, aggiungiamo lo schizzo tagliato a pezzettini, il grana, il sale e un pizzico di pepe. Stendiamo la pasta sfoglia, se è quadrata ritagliamo dei quadratini, se è rotonda facciamo dei triangoli e mettiamo al centro il composto. Chiudiamo il fagottino. Poniamo i fagottini su placca con carta da forno, li spennelliamo con il tuorlo sbattuto e inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. A questo punto andiamo a sfornare le nostre briochine. Ma guarda che meraviglia, Joy! Se tu che fai gli acquisti, compravi la pasta sfoglia quadrata, vengono fuori tutte le belle caramelline quadrate. Non c'era pasta sfoglia quadrata, briochine! Va benissimo. Ricordiamo con ingredienti del territorio, perché qui abbiamo privilegiato il radicchio di Santa Giustina. Allora Joy, prego. E lo schizzo. E lo schizzo, bravissimo. Guarda, stai attenta a cosa hanno inventato a questo mondo. Guarda anche questo. Guarda, vi ricordiamo il sito internet www.lajoy.it, il sito internet del ristorantino di Lasein dove potete prenotare, anche perché adesso abbiamo smaltito le feste, quindi anche Joy riesce nuovamente a districarsi tra i nuovi clienti che sicuramente arriveranno e tra quelli storici. Sì, quella so già che arriverà a me. Questa è grande. E all'interno del sito c'è anche la possibilità di leggere le storie di vita privata di Joy, che mescola la sua passione e la sua professione con tutto quello che le accade nel mondo e tutte le scoperte che fa a livello culinario e di vita. A questo punto, dillo. Ma vada che belline. Sono proprio soddisfatta di me. Se tu chiudi, noi mangiamo. Chiudi, chiudi, chiudi. Benvenuti a tavola, ciao, ciao. E noi ci rivediamo domani puntuali, alla stessa ora. Arrivederci da